Creare una rete condivisa di esperienze e di professionalità sul tema dell'autismo. A Crotone, per iniziativa dell'amministrazione comunale, si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato numerose associazioni e strutture che si occupano di un tema molto avvertito nel territorio. Per la prima volta si sono trovati tutti insieme a discutere su una patologia che registra in città numeri molto elevati. Era questo l'obiettivo dell'assessore alla tutela della salute, Carla Cortese. Solo collaborando si potrà effettivamente portare avanti un progetto e qualcosa di concreto per i ragazzi che saranno uomini di domani, donne di domani e che quindi hanno bisogno non soltanto del supporto sanitario ma anche dell'integrazione sociale. Ai lavori ha partecipato il commissario straordinario Domenico Sperlì, il quale ha assicurato massima collaborazione a sostegno di questa rete di buone prassi, evidenziando che c'è la volontà di prevedere l'implementazione dei servizi sanitari in materia con la creazione di due centri specifici sui quali l'azienda è già al lavoro. L'idea che ho avuto e che è emersa da questo dibattito, che ho percepito, darsi che sia stata una mia impressione, è che ci sono grandi potenzialità ma mi sembra che la realtà è una realtà molto parcellizzata. Al dibattito tra gli altri sono intervenuti Salvatore Bagalà, primario del reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale e Renato Gaspari del Dipartimento Politiche e Sociali della Regione Calabri. Hanno partecipato all'iniziativa l'assessore alle politiche sociali Filippo Linzi e la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone, Carmen Giancotti. Quello che è emerso è che sul territorio esistono diverse realtà che operano nel campo della problematica dell'autismo, dei disturbi dello spettro autistico. C'è bisogno però di mettere in correlazione quella che è l'istituzione, le istituzioni con le organizzazioni di settore. Quali sono le principali necessità? Le principali necessità sono quelle di avere una mappatura chiara sui problemi, in questo caso specifico dell'autismo, capire cosa accende la nostra realtà e avviare attività di coprogrammazione e coprogettazione con tutti gli enti locali, a partire dall'amministrazione comunale, dall'ASPS e dalla Regione. Senza un'attività di questa natura diventa sempre più difficile riuscire a realizzare i bisogni necessari per questo territorio.